Nissan ha presentato la sua gamma di 6 modelli elettrificati insieme alle rispettive tecnologie, annunciando che la produzione sarà 100% elettrificata entro il 2030. I 6 nuovi modelli elettrificati Nissan sono in arrivo nel corso del 2022 e sono in linea con la strategia aziendale a lungo termine tracciata dal piano Ambition 2030. L'impegno per la sostenibilità è a 360 gradi e lo scorso anno Nissan ha lanciato il progetto EV360, un electric vehicle cube che darà vita al primo ecosistema di produzione di EV al mondo presso l'impianto di Sunderland, un investimento da un miliardo di sterline che creerà 6200 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti e vedrà la realizzazione di un nuovo crossover 100% elettrico prodotto sulla piattaforma CMF EV, una nuova Gigafactory da 7.5 Gigawatt estendibile fino a 35 Gigawatt nel medio periodo, una microgrid di energia rinnovabile per alimentare la produzione a Sunderland e batterie EV di seconda vita per lo stoccaggio. Con EV360 e la nuova linea di prodotti elettrificati Nissan accelera il suo percorso verso la completa neutralità dal carbonio. Il viaggio Nissan verso la mobilità a zero emissioni include i modelli ibridi Juke, X-Trail e Qashqai e Power. Per quanto riguarda le elettriche, le proposte della casa giapponese sono Aria, Leaf e Townstar.